Condanna sei mesi di reclusione per Roberto Di Ruscio, l'autore del video in cui il medico Fabio Federico rilasciò dichiarazioni omofobe nel 2006 quando era consigliere comunale. Quel video fu successivamente montato in chiave satirica e diffuso su YouTube il 4 giugno 2011 quando Federico era sindaco di Sulmona, scatenando la reazione degli omosessuali. Nell'udienza di questa mattina il giudice del Tribunale di Sulmona Valeria Gioeli ha emesso il dispositivo della sentenza con la condanna per Roberto Di Ruscio a sei mesi insieme al pagamento delle spese legali e con una provvisionale del risarcimento danni di 3.000 euro. La giustizia ci mette tempo ma alla fine riesce sempre a stabilire la ragione dei fatti in quanto si nota perfettamente che quel video fu manipolato per creare documento è stato il commento a caldo di Fabio Federico che ora pretende che si faccia chiarezza fino in fondo. Quel video aggiunge ebbe una cassa di risonanza a livello nazionale in quanto ne parlarono molte testate giornalistiche. Ognuno dovrà rimangiarsi quello che ha detto perché non si può far finta di nulla visto che siamo di fronte all'evidenza. Chi inoltre sul web si è lasciato andare a commenti poco gradevoli dovrà chiedere scusa. La sentenza che verrà depositata tra circa 70 giorni permetterà di conoscere con esattezza le motivazioni del giudice. Trattandosi del primo grado di giudizio Roberto Di Ruscio avrà la possibilità di ricorrere in appello. Io non vorrei che mio figlio fosse tutto quanto.